Buonasera a tutti quanti ragazzi, benvenuti nel canale Gameplays 1973, in compagnia del vostro amico Salvo che sta continuando la sua videoguida di Dragon Quest Eros, però mi devo annunciare un po' di novità. Allora, come voi ben sapete, io privatamente, quando finisco di registrare, incomincio a livellare, come vedete, io ora vi mostro, ho incominciato a livellare mostruosamente, come vedete ho diversi punti da assegnare, ma non l'ho fatto per adesso, non l'ho fatto, e in più vi voglio mostrare una cosuccia, nell'inventario, non qua, non correzione, è l'impeggiamento, ho trovato il suo vestito secondario, guardate, questo è il suo vestito alternativo che ora ci mettiamo, quindi ora siamo vestiti in questo modo, siamo vestiti, e se non mi sbaglio avrei trovato anche quelli degli altri miei compagni, vediamo se è vero, no, lei no, 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 dovrei richiedere che l'ho trovato degli altri, vediamo un po', non fosse solo lui a trovarlo, sì, sì, solo lui sicuramente, vabbè, vi dico come ho fatto a trovare il suo vestito, praticamente è stata lei a darmelo, perché come vedete io privatamente mi sono fatto le missioni secondarie, perché queste sono le missioni secondarie, vi mostro quelle che ho in corso, che non farò in questa video guida, ma vi farò vedere, ho queste da farmi in corso, non me le faccio privatamente, e mi sono rimaste queste altre pochissime missioni da fare, quindi tutte le missioni secondarie, io me le sono fatte tutte in privato, ora continuiamo la nostra partita normale nella nostra video guida, assegno i punti abilità ora, ok, assegniamo qui i punti abilità, allora, 17, in caso pochi, 15, 8, no, no, questa è la posizione di estrezza, però io quasi quasi 8, 8, 16, prendere questi due, li prenderei, così avrei il PM a massimo, poi privatamente, poi privatamente, mi prenderò il resto, allora, 7, 8, 8, 8, 16, si faccio pure così, anche lei al massimo, 3 punti, ok, questo è recupero magico critico, buono, bianca, 8, 8, 16, si, si, o spesso anche lei, quindi è più via al massimo, il PM a mano, e adesso, Jessica l'abbiamo bella pompata, hey, il remade, abbiamo� ora, è proprio via, ilerro con vivina, l'assistente, come se vuoi dare sicuro di lodera, va ce so, ma non si, dopo il rimane magico critico putto, abbiamo sparito ma anche l'assistenza, abbastanza e anche lui recupero critico magico, buono, Kerk, difendo il PM, recupero critico magico, è una difesa migliorata, Giangus, Giangus, 5, tipo un massimo più 10, no, io quasi quasi mettete questa, più forza, no, meglio più forza, ah, non posso utilizzare questa abilità, vabbè, allora, mettiamo, no, aspetta, meglio la forza, così è bella tosta lei, e sciogliette, mettiamo l'intelligenza, ok, va bene, continuiamo la nostra missione normale, la mia missione è nel Tempio sommerso, qua, il Tempio sommerso, estranei nel Tempio, allora, lo avete capito subito, qua incontreremo l'ultimo personaggio che si aggrega al nostro gruppo, si chiama Maya, qua ce l'ho venuto privatamente per assaggiare un po' il livello, ma è molto più difficile, quindi per questo mi ero organizzata nell'alzare il livello degli giocatori, perché qua è veramente difficile, e lei, che è l'ultima che entrerà nel nostro gruppo, sicuramente è una tra le più forti, ma lo scopriremo quando S entrerà nel gruppo. No! Let us hold a moment while I devise a suitable strategy for approaching some... Ma! Maia! Maia, is it truly you? Elena! What in the world are you two doing here? That is for us to be asking you, surely. For why do we find you dancing in such a place as this? No, I haven't the foggiest. I really don't. One minute I was somewhere else and the next I wasn't. Let me see. Well, nobody was here and I had no idea where to go, so... I thought, well, I'd dance a little dance to see if some higher power might show me the way. I've been playing for a strong, handsome... ...or rich young hero who's destined to save the world to come and sweep me off my feet. Nella storia principale, perché momentaneamente mi sono concentrato privatamente nelle missioni secondarie. Ari, can it be you, my hero? I fear I must disappoint you. I am far from rich. You're not denying the handsome part, no? You're not denying the handsome part, no? Quindi entri later, no. This brave warrior has come to take trial and thenceforth to rescue the world from peril. He is true hero, blessed with mighty powers indeed. Hmm, is he now, I wonder? Maya, you must be bored to dance here solitarily, no? Why not accompany with us? We could make great use of your powers. It is just as Sarevna states. Though already having many excellent qualities, our party has requirement of your premium spells. Well, of course. Additionally, gentleman to rear of brave hero is in fact king of this world and greatly rich. Aiding hero in quest to rescue world must surely encourage great generosity in his majesty, no? Generosity perhaps in form of treasures and jewels, yes. Hmm? I am no hero, my dear. Merely a handsome and deeply humble king. Ha 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 ha! Ah! I knew it. The hand of fate has guided me to you wealthy, I mean noble heroes. Of course, of course I will join you. Come now, my brave hero. Let's get this trial out of the way. Then you can concentrate on making me rich and exceedingly happy. Ah! Oltre qua è il posto, come vi dicevo, che è estremamente difficile. Eh sì, perché questa statua è estremamente fragile. Quindi non è il discorso dei nemici, che bene o male ora come ora che sono molto molto forte non dovrei avere problemi. Ma il problema è la statua. Quindi dobbiamo essere parecchio strategici. Ora vediamo un po' se ci riusciamo. Vediamo un po', non butta. Perché il mio problema è la statua. Qua per forza devo tirare per forza la leva. Qua se no... Io subito attacco loro. Io subito attacco loro. Qua per forza devo insieme invece. Qua per 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 una albette di ingra silvona potabile facendo le missioni privatamente io ho fissato tutte le armi del venditore che aveva disponibili al momento tutti i miei personaggi hanno tutte le armi potenziate al massimo perchè ho preso le più forti nooo merda non è abbastanza ancora mamma non lo aveva una popilla non è andata quello che aveva voluto non è abbastanza ancora ma anche se non ci vado ecco la manga è piossamente forte aspetta io ho preso i miei amichetti Sì 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 Allora Ecco la maga Siamo abbastanza Oggi Andiamo veloci Sì 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 All right. You've brought this on yourselves. Fantastic. 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 Unbelievable. Okay. Shit. Okay. Grazie a tutti. 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 Buono, buono, buono. Oh, stop it. Dopo tutto cenare con Frank, lo sapevo che lo faceva per i soldi. Oh, buono, buono. Oh, buono. Oh, buono. Ballerina dei ventagli. Una bellissima ballerina, poi abilitare gli attacchi, ah, attaccheri. Un'altra terra quando mette a segno almeno 100 colpi consecutivi. Vai, danza agile. Un'altra terra quando mette a segno almeno a segno almeno a segno almeno a segno almeno a segno almeno. E' un'altra informazione tecnica. Poi me lo vedrò privatamente. Ce lo vedremo. E la potenzieremo a livello. Allora, dobbiamo distribuire i punti abilità, cioè anche i suoi. Che ha 139. Ecco, fu, manca. Sarà fortissima. Allora, la cosa importante è prendere questo essenziale prima. Ok. Perfetto. Due. Francesco E' andata la persona. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Grazie a tutti. Grazie. Almeno questi devo pigliare normali. Ora non ci posso comprare qualche cosina. Allora, cupra magico. Allora, buona. Allora, buona. Due agli danzanti. bianca 8 pioggia pungente delto va bene in teoria dovrei andare nello stesso punto lui dovrebbe lasciarmi per la nuova rivata perchè ho acquistato tutto la nuova rivata è messa qua quindi devo solo vedere il suo punto quando si accende devo prendere ecco qua 139 questo è il numero perfetto l'armatura devo prendere che è il numero che ha l'armatura guardate dai che è la 5600 compagno con il numero questo è questo è Tanto, io posso vendere pure a te, ma non è per bene. Tanto, i soldi sono sempre uguali. Allora, facemi fare un pochettino di oggettistica. O se mi dai, io ho... Allora, danni ai mostri volanti, 15%. Resistenza alle esplosioni, resistenza alle difesa, tempo di congelamento ridotto. Aiuto alla parte di cono, 15%. Ok, praticamente con questi, lei, cono, ci dà un po' di energia. Non è in maniera sufficiente per la ricetta. Forse così ce la faccio. Sì, ma rimetto che sono buoni. Perfetto. Poi, vediamo se posso... Forza dei mostri amici. Sì. Sì. Praticamente, se chiamo dei mostri, sono un pochettino più forti. Buono. Bene, bene. Questo oggetto non l'avevo creato, questo oggetto. Cintura poterosa, resistenza scossa e reggite. Sì. E poi io, privatamente, mi faccio un bel po' di oggettistica. Mi faccio... Allora, per la testa di un po'. Allora, orecchine slime. Bene. Cintura poterosa. Forza dei mostri amici. Eccola qua. Bene. Il vestito non ce l'ha. Va bene. Ok. Dovremmo andare sempre nel... Nel santuario sommerso, anzi nel tempio sommerso. Nel dedalo. Gli eroi arrivano all'ingresso del tempio e la rincontrano mai. È una bellissima tanziatrice. No, mia mamma butta e nel caso muoio. Non c'è problema. Ma come avete visto, dire è difficile. Ora speriamo che questa non sia pure fragile. Con due mostri. Va bene. uh? ho informato che abbia meglio che ho capito forse 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 Sì, non è vero. Bello, no? Why, indeed I do, my dear! Treasures meramente incontrable in their vast multitude! Seriously! I knew it. And whether at treasures there are... ...rewards... ...or joy? Ye, the people of this world align with us! Precious irreplaceable jewels every last month! Oh, come buy first? No, wait. I'll start by doubling my earnings at the casino. The most valuable thing will be her face when she finds out which treasure ain't treasure at all. Man, son. I love you, I'll be on my way. I'm gonna be on a BAF. I'm gonna go with the bar. I'm gonna go with the same to see the first one. E' il caso di più a passare qua, vediamo l'esplice, è fortissimo, è arrivato l'esplice per fare le emozioni, adesso, adesso qua, e adesso qui qua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Meno male, ho lasciato l'oro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. 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 Grazie a tutti! 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 Oh... Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ok... Ok... Va bene ragazzi... Ci vediamo alla prossima... Sempre sul canale... Grazie a tutti...